Musica Ah beh, come ogni lunedì iniziamo questa settimana del Mr. Olimpia con un casino di aggiornamenti Aggiornamenti a manetta, come si diceva che ha ieri Con il buon Derek Lansford che ha pubblicato questa schiena bovina Con una vita molto stretta, chiaramente aiutata dalla cintura alla vita Con spalle molto larghe, un'ottima densità muscolare Come ho già detto miliardi di volte, gli farei vincere il Mr. Olimpia Come ho detto nelle mie previsioni ufficiali, penso che arriverà verosimilmente intorno al quinto posto Questo è il video che ha pubblicato su YouTube, è a nove giorni dal Mr. Olimpia questo video Non oggi, perché siamo a cinque giorni, è venerdì il Mr. Olimpia Quindi mi aspetto cose enormi da Derek Lansford, sono davvero curioso di vederlo sul palco Un paio di risposte veloci Non farò live su YouTube perché voglio dormire la notte, me lo guardo la mattina Non voglio assorbirmi di tutte le categorie femminili come ho fatto in passato Stando sveglio ore e ore aspettando l'open, quindi me lo guardo indifferita E in più, se comprate lo streaming si può guardare indifferita Non dovete per forza guardarlo dal vivo Comunque, tornando a Derek Come detto, ottimo bodybuilder Credo che quest'anno sarà l'anno in cui tanta gente verrà sorpassata gerarchicamente Diciamo dalle nuove leve che si confermeranno Derek è una nuova leva nella open Chiaramente è un campione da 212 Sta facendo molto bene Ci può dire che non si meriti di stare lì perché non si è qualificato Ma è stato invitato ufficialmente Però anche Big Grammy è stato invitato nel 2020 e ha vinto il Ministero Olimpia E non si è lamentato nessuno Io sono dell'idea che bisognerebbe comunque qualificarsi in qualche maniera Che bisognerebbe che ci fosse meno gente al Ministero Olimpia in generale Soprattutto quest'anno Però ottimo aggiornamento di Derek Credo che saranno gli ultimi aggiornamenti che vedremo un po' per tutti i bodybuilder Perché inizieranno a coprirsi un po' di più A mostrarsi di meno Però farsi vedere su Instagram secondo me è una cosa importante Perché i giudici secondo me tengono d'occhio le persone di cui si parla molto Perché se un Nick Tenden Power parla molto di qualcuno Secondo me crea un po' di aspettativa anche da parte dei giudici Passando ad Andrea Presti che ha pubblicato questo aggiornamento nobile con Mauro Sassi Sembra molto messo bene L'unica cosa che mi sembra un po' strana è una gamba un po' più grande dell'altra Non so se sia la mia impressione o se sia effettivamente così Però mi aspetto da Presti un'ottima condizione Un'ottima prestazione Sicuramente superiore a quella dell'anno scorso Sicuramente superiore all'ultima volta che abbiamo visto sul palco ad Alicante Come ho già detto Perché lì non era al 100% dovendo gareggiare l'Olimpia Sarebbe stato stupido presentarsi al 100% ad Alicante Quando c'è l'Olimpia tre settimane dopo E questa settimana credo che farà davvero i compiti a caso Ho visto alcuni video che ho pubblicato su YouTube Molto interessanti Ho sentito Mauro Sassi cercando di metterci d'accordo per fare un'intervista veloce Ma credo che siano estremamente incasinati tra tutte le cose che devono fare Quindi mi dispiace non fare questa intervista lampo Però così è e gli auguro il meglio a entrambi Passando a Samson Dauda che ho pubblicato un altro aggiornamento Un almost muscular mi fa morire da ridere il fatto che la canzone si chiami Tiger E ci sia un leone sotto Cioè questa cosa mi fa morire Però sembra molto pieno, molto denso Come ho detto non so quanto sarà definito Io mi aspetto un ottimo Samson Dauda Migliore di quello dell'Arnold Classic che abbiamo visto qualche mese fa Però non credo che manterrà le masse che ci ha fatto vedere durante questa off-season Tra primavera ed estate dove era quasi a 150 kg Cioè mi sembra impensabile Credo che si ridimensionerà molto E spero che riesca a perdere il grasso in eccesso per arrivare molto definito Perché anche nel suo caso quest'anno potrebbe essere la sua consacrazione Diciamo Passando a Blessing Award Ho pubblicato questi aggiornamenti interessanti Lui è un bodybuilder che potrebbe rientrare nella top 10 Io non l'ho incluso Non ho incluso neanche un Ian Valliere Però siamo lì Sono questi bodybuilder a ridosso della top 10 Come ho già detto in passato Credo che Blessing sia un buon bodybuilder Ha un ottimo pacchetto Forse gli serve un filo di più di massa E secondo me la cosa che gli serve di più è Posare bene Senza scalmanarsi Senza agitarsi Perché davvero è una cosa che a me dà molto fastidio Non mi piace Non so se anche voi la pensiate così Però secondo me se avesse una condotta di palco E anche fuori dal palco Un po' più seria Senza andare sempre a creare polemica Attaccare qualcuno Sarebbe un po' più ben voluto E i giudici secondo me lo consiglierebbero Un po' di più Perché sul palco bisogna Avere una condotta Nobile Bisogna posare bene E se si posa bene non bisogna Scalmanarsi Questa è la mia idea Un altro bodybuilder Per cui si sta parlando molto È Rafa Brandau Io non credo minimamente Che arriverà in una top 10 Come ha detto anche un Brandon Curry Quando ha fatto la sua top 10 Vi ricordate la top 10 Da ricovero Al TSO Al reparto mentale Però Non credo che Brandau arrivi in una top 10 Io credo che Porterà un buon pacchetto Ma secondo me È un po' Troppo poco grosso E in più Non gli ho mai visto Una definizione eccezionale Quello Site Tricep è molto buono Lui è un bodybuilder fantastico Come ho detto altre volte L'unico secondo me Che dalla open Potrebbe fare il classic Perché ha una struttura Classica Però Non è abbastanza grosso Per la open Poi Chiaramente Se arriverà nella top 10 Chapeau Giù il cappello Però Non lo vedo Da top 10 Io lo vedo anche lui Al ridosso della top 10 Insieme con i vari Ian Valliere Blessing Awodibu Charles Griffin E me ne sto dimenticando altri Perché c'è davvero troppa gente Ogni tanto ci penso E non mi ricordo Chi c'è davvero Dovrei ogni volta riguardarmi La lista dei partecipanti Perché c'è davvero troppa gente Però Brandao Credo che farà Abbastanza bene Spero che porti la definizione Perché non credo Che porterà Delle masse Esagerate Questo è un aggiornamento Che ha pubblicato Con Flex Lewis Che rimane sempre Agigantato Soprattutto nei polpacci E anche Brandao Ha dei bei polpacci Devo dire Ha una bella forma Ha delle belle rotondità In generale Molto molto completo Secondo me Gli serve un po' più Di densità Nella schiena E Un po' più Di definizione Se non vuole mettere Quella massa Che gli serve in più Perché comunque Il bodybuilding Open Si basa Su massa e definizione Se uno è La statuetta Della Gold Gym Come Brandao Va bene Però Non è abbastanza Passando al buon Michael Crizzo Che ha pubblicato Altri aggiornamenti Disumani Queste braccia Sono davvero Tra le migliori Nel circuito Adesso Adesso che Rolly Winkler È sparito Ha smesso di gareggiare Praticamente Perché non credo Che vedano più Rolly Winkler Credo che Abbia tra le braccia Migliori Tra Deltoidi Bicipiti Un po' meno I tricipiti E avambracci È molto Molto completo È un bodybuilder Come Nick Walker Che più l'ho visto Quest'off season Più mi ha convinto Soprattutto quando L'ho visto sul palco A Praga Per quanto il posing Fosse così così Mi ha convinto Perché se ne è parato Davvero tanto Ed è un po' Un po' scettico Perché quando vediamo Bodybuilder Solo su Instagram Solo in storie Solo in aggiornamenti Ultra filtrati Si ritende a Secondo me A non credere troppo All'hype Mettiamola così Cioè io sono fatto così Finché non si vedono In bodybuilder Sul palco Le foto lasciano Il tempo che trovano E quest'altra Storia è molto Molto buona Come detto Se non l'avessi visto Sul palco Avrei continuato a dire Aspettiamo il palco Aspettiamo il palco Poi l'abbiamo visto sul palco Ho detto Ho detto quali sono Secondo me I suoi punti deboli Diciamo Dove deve Lavorare un po' Però Io lo vedo Tranquillamente In top 10 Cioè Lo vedo Davanti a un Jan Valliere Lo vedo davanti a un Blessing a Wodebool Lo vedo davanti a un Charles Griffin Perché comunque È grosso Cioè è alto Più degli altri È grosso Ha delle belle rotondità Pochi punti deboli E se porta un buon Posing Io credo che Che possa fare bene E credo che in futuro Possa essere Un bodybuilder Che Vedremo Affermarsi anche In piani più alti Comunque Fatemi sapere che ne pensate Di Tutti questi Aggiornamenti E ci aggiorniamo Buona Aggiornamenti